È successo qualcosa di nuovo nel treno europeo, non ci sono più passeggeri di prima e seconda classe perché per la prima volta si risponde ad una crisi non individualmente con i singoli stati che vanno da soli ma insieme come Unione Europea e tutti alla pari. Naturalmente la strada è ancora lunga ma interesse dei cittadini, un'Europa che metta a disposizione degli stati strumenti da utilizzare liberamente senza vincoli e odiose condizioni. Ieri all'Eurogruppo si è imboccata la strada giusta, quella che porterà alla costituzione di un fondo per la ricostruzione economica e sociale che potrebbe anche finanziarsi sul mercato con strumenti nuovi condividendo insieme gli oneri necessari alla rinascita. I capi di Stato e di Governo ora dovranno essere coraggiosi e rispondere alla previsione della Banca Centrale Europea secondo cui per la ripresa serviranno oltre 1.500 miliardi di euro. Positiva anche la riconversione del MES da fondo salva stati a fondo per le emergenze sanitarie disponibile a tutti e senza condizioni. Uno strumento utile per finanziare i nostri ospedali, il personale, le attrezzature, il territorio, la ricerca. Naturalmente nessun Paese è obbligato a usarlo ma è un'opportunità in più. Ad esempio Paesi come l'Italia hanno già versato in quella cassa 14 miliardi di euro e ora può riceverne ben 37. La solidarietà europea fa passi in avanti, gli egoismi nazionali arretrano, il cammino è appena iniziato, c'è ancora molto da fare. Siamo solo all'inizio ma l'hanno capito tutti, ne usciremo solo con un'Europa più solidale.